Però mi piacerebbe che tu raccontassi come siete arrivati a Venezia, che successe che è stato molto... Si, si è benvenuto. Nel momento in cui il film è stato provato è scattata la macchina per il film, la forza di Francio è il saper imporre un suo film, per cui siamo andati alla Cineriz, abbiamo conosciuto la Cineriz a prendere il film, ha convinto un eserciente importantissimo di Milano, che poi negli anni, tanti anni dopo è diventato mio socio, di Sandro, che aveva tutte le sale in Lombardia, a prendere il film. Il film che è stato montato a Milano il 2 settembre l'hanno montato dopo Pasqua, per cui dico questo perché oggi anche il film più famoso, il più bello, il maggiore incasso esce in mille coppie, ma sta fuori due settimane, per cui è un modo molto diverso di vedere il cinema. Ecco, se tu non hai la possibilità di avere mille coppie, tu incassi oggi non le fai mai. Mentre una volta abbiamo potuto fare un bel incasso con una copia, solo da che però stava su dal 2 settembre a dopo Pasqua. Cioè la gente aveva il tempo di vederlo e di vederlo nella sera. E allora, tutto questo ci ha portato a Venezia. Adesso qui ho visto che c'è anche Bertolucci come ospite del festival, e quell'anno a Venezia c'era la luna, c'era il concorso Obron, Ponte Corro, per cui Franco era forte di un concorso e ha detto però anche un'opera prima, mettetele da qualche parte, mettetele al pomeriggio, mettetele dove volete. E tutto questo però ha incasato i giornalisti, perché i giornalisti dovevano parlare di Bertolucci, parlare di Ponte Corro, così e poi avevano, dovevano riscatto le opere prima, che dovevano vedere e non avevano il tempo. Per cui si sono fatti vedere il film alla Cineris a luglio. E probabilmente non vi abbia piaciuto nessuno, perché mi diceva, adesso non posso fare tutta la mimarca della Terracone, ma quando l'ha visto, io ero sulla terrazza, mi sono passati davanti tutti a destra bassa, ma non neanche salutavano, di cui io ero appoggiato alla Bala Lusstra e ci sono rimasto in piedra, intorno a Berletta. Capisco che non sia piaciuto il film, ma neanche salutarmi, visto che faccio anche l'attore, per l'ultimo ore e mezza, visto il disgraziato che ha fatto la regia, la sceneggiatura, l'attore, è impossibile che neanche di me, e c'ero solo io sulla terrazza, no? Però tutto questo è stato spazzato lì da 20 minuti di applausi quando è stato proiettato. Per cui i giornalisti sono stati un po' obbligati a stracciare gli articoli che avevano già fatto a luglio. E il giorno dopo, sul Corriere, è uscito un traffinetto che diceva Oggi parliamo della luna di Bertolucci, che era lo stesso giorno, e per mancanza di spazio, di di che vi parleremo domani. E la mattina dopo se lo sono fatti riproiettare. Solo che a quel punto era diventato il caso del festival e allora l'hanno dovuto vedere assieme al pubblico. E vedendo un film comico assieme al pubblico è diverso da vederlo da soli, no? Questo io credo che parli a tutti i film, no? Tu lo vedi insieme al pubblico e forse capisci che a me non ti fa ridere la sera, però è un film che ha fotografato un certo momento, ecco. quel momento in Italia è stato fotografato da Rafa Daplan oltre i meriti del film, oltre i meriti di Eddie, Franco, e... Eravamo, eravamo, e siamo, io sono, così lavorato di un cristiere. Per cui noi facevamo il cristiere ai massimi idei che potevamo fare. Però non sempre è la fortuna di azzecare il film che parla anche di una generazione. Quello è quella che è un po' capitato, insomma. Nella fine degli anni 70 in Italia c'era voglia di ridere, perché era il decennio della strategia della pensione, era il decennio delle bombe, era il decennio di una politica che si era accadita. Qui, gli anni metropolitani nel 77 scrivevano sui muri una risata di soppellirà. Una risata di soppellirà vuol dire stocanare l'ironia e portata dalla parte della contestazione, che era una rivoluzione, perché se Rafa Daplan l'avessimo fatto nel 68 non ce lo facevano neanche in fila, perché non c'era ironia nella contestazione del 68, mentre alla fine degli anni 70 c'era voglia di essere ironici proprio per scrollarsi piuttosto un decennio di cose cruente. Questo è un certo che non è dubbio.